ma come si va ma bisogna inserire buongiorno ferraioli buongiorno ma cosa mi fa lei in bicicletta scusi non ho capito io vado in allenamento in bicicletta ma la notizia la sano e che fammi mi suona il campanello ha parlato di notizia e mi si è accesa esatto erika ferraioli al flash acquatico mi faccia vedere anche un po gli occhi lo so che c'è un po di sole ma due minuti li può rimettere perché altrimenti si è capito che da un po di fastidio ma un po di emozione c'è no sì sì sicuramente c'è abbiamo riqualificato questa staffetta e dai e dai e no c'è anche dai e c'è l'altro dai allora qui c'è dai e c'è super dai a verraioli alla veneranda si può dire sì 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 tanto alla veneranda ma lei mi è veramente lei mi gira e per roma così in bicicletta non ma se lei si rende appunto perché c'è il codia in moto è la fidanzata di codia ha visto che fiammante fidanzata lei va con il col mezzo a pedali rigorosamente in non facciamo pubblicità queste sono quelle che vanno per la maggiore a proposito di gente che va per la maggiore lei mi è ricicciata fuori in maniera forte no cento stile mi dica un po insomma oddio sinceramente speravo un po agli assoluti speravo di fare una gara migliore di quella che ho fatto perché comunque mi sto allenando bene nonostante l'avere la dottoressa ferragliore perché spieghiamo lei è un'accademica accademica della bracciata che non esageriamo da accademi sul curriculum lei lo portano con tanta fatica io sono laureata insomma si con disiderosa di fare poi parte della relazione dicono di swing biz no si si dico non mi dispiacerebbe intraprendere la carriera del giornalista di giornalista magari inizieremo a fare un po di commento tecnico allora col commento tecnico della signora ferraioli della dottoressa ferraioli dove andiamo con con le donne a stile libero no perché è un bel argomento questo è un bellissimo argomento allora partendo del presupposto che comunque manca una delle ponte fondamentali stiamo aspettando che rientri ma scusi l'ha vista l'altro giorno l'ho vista l'ho vista certo come non potevo perdere la di pietruccia la dp la di pietruccia quindi aspettiamo con ansia il suo ritorno nel frattempo cerchiamo di stare sempre lì cerchiamo di fare il meglio possibile sono sicura che laureggiata hanno che hanno voluto tanto questa qualificazione di tornare nazionale daranno il massimo e la terza daie perché c'è la terza verità scontata l'onorevole pellegrini la senatrice la senatrice anche se lei la batte come io come età sì però lei come risultati lei come risultati neanche neanche si stanno girando dice ma chi è questa bella fanciulla ma farà mica l'assistente la bagnina qui all'acquanina io no 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 mi basta quello che faccio tutto il giorno era una battuta non perché si sono fermati stanno guardando c'è sempre il solito importunatore il paulino ebbè sono così in bicicletta non si giri lei fa lei voglio dire si nota si nota vogliamo farci notare anche gli europei certo quello sicuramente facciamo un fiocco 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 no si dice facciamo un fiocco no io non voglio fare profezie no la profezie la profezie della fiocco cioè vi prometto che ci metterò ha visto che bei maschioni in massimo ragazzi 4 per 100 uomini si 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 beh per me sono un po' giove no 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 ma mi faccio la serie non in quel senso dire giove no come che ne so no 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 è una staffetta giovanissima e cavolo sarà tipo due metri quindi qua si rischia nel flash acquatico si rischia sempre di andare a finire su ambiti che non c'è chissà perché qui stiamo parlando agonisticamente parlando di fisicaci incredibili abbiamo lasciato abbiamo due metri di di cotanti come si dice di statura media quindi voglio dire abbiamo lasciato magnini fidanzato adesso e adesso abbiamo trovato e quindi vorremmo che la ferraioli che voglio dire dal punto di vista dell'altezza aspetti non riesco a prendermela tutta quanta in posa plastica ecco da questa posa plastica mi fa un saluto sui mesi ci rivediamo a sette colli facciamo un salotto vediamo veda un po lei bene ci vediamo a sette colli anche perché lei ha tantissimi fan anche in redazione il vice direttore di swimbeads Gianluca Guarnieri che salutiamo è un fans della prima seconda terza ora e quando gli ho detto che probabilmente lei verrà a fare il commento tecnico quando lei smetterà più tardi possibile mi raccomando ha fatto un salto sulla sedia come si dice bene ottimo come si dice alla prossima allora alla prossima con swimbeads e ci vediamo adesso mi va mi va mi va in piscina ma non so se funziona come so che funziona le funziona tutto ecco brava mi pedali fino a classico comunque e vedi non va perché devi mettere la monetina scusi la saluto ferraioli